Musica Benvenuti raga sono Dav Vi do il benvenuto in questo nuovo video Siamo oggi con un nuovo episodio della carriera di Akin Mastur Come sapete manca davvero pochissimo tempo per concludere il nostro primo anno proprio con la maglia del Lavellino Vi ricordo che siamo in prezzo dal Milan come potete leggere in alto A sinistra partiamo immediatamente dalla ricerca del match La prima partita arriva in casa Questa volta gli ospiti sono quelli del Livorno Che stiamo andando ad affrontare Quindi vediamo subito gli highlights del match Partita che si mette subito male per i nostri Guardate al ventesimo minuto La verticalizzazione perfetta per Sidi Gardi che non sbaglia E firme gol del 1-0 Ventesimo sul cronometro Vantaggio avversario dei nostri ospiti Poi al trentacinquesimo arriva questa bella azione Qui con Hakim che serve Komi restituisce il favore Il bomber e di testa Non sbagliamo Proprio noi Hakim segna il gol del pareggio Siamo al trentaseiesimo Davvero bellissima azione dei nostri Con questo stacco di testa Poi ancora pericolosi Guardate Al secondo tempo Qui ci viene passata la palla In un modo o nell'altro Ritorna sui piedi di Komi Che segna il gol del 2-1 Quindi gol e assist per lui Davvero una partita stupenda Poi guardate questa brutta Scivolata da parte del nostro avversario Che ci infortuna Usciamo purtroppo dal campo Al nuto 73 Non ci saranno però Ripercussioni Infatti Sarà un infortunio Che non durerà praticamente nulla E Siamo pronti subito per andare a giocare Il secondo match Questa volta siamo contro il Latina Guardate questo bello 1-2 Sempre con Komi La palla però Altissima sopra la traversa Ancora qui invece Decisimi nostri Qui è Kone A servirmi poi il sinistro Sfiora l'incrocio Ma nulla di fatto Per Il nostro Akim Poi questo bellissimo Lancio al cinquantesimo È venuto a servire Komi Guardate il destro Murato però Dal portiere del Latina Che compie Un miracolo 6,1 La mia valutazione Finirà proprio così il match Raga Non ci saranno altre occasioni Da gol 0-0 Tutta la finale Guardate anche Le sue statistiche Praticamente Zero ti importa Per Il Latina Andiamo a vedere La terza partita di oggi In casa contro il Vicenza Qui Akim Subito Velocissimo Entra in area Subito Supero Tutta la difesa E poi L'appoggio in rete Per l'1-0 Siamo al quindicesimo minuto Gol fantastico Stiamo facendo Una miriade di gol Stiamo diventando davvero Un bomber Poi ancora Azione pericolosa Di Mastur Che supera un uomo Dopo una sterzata Fantastica Poi il destino Da dimenticare A secondo tempo Guardate il colpo di testa Che colpisce la traversa Con L'attaccante del Vicenza Nuovamente Altra traversa Dieci minuti più tardi Ma Non può nulla Il Vicenza Che non riesce proprio A segnare Terminerà proprio Sul risultato di 1-0 0-7 È il risultato Che si merita Il nostro Akim Dopo il gol vittoria Che ci regala i tre punti Andiamo a vedere L'ultima partita di oggi In casa del Vercelli Quindi Sarà una partita Davvero tosta Perché sta facendo Un ottimo campionato Qui Akim Entra in aria E Driblando tutti In velocità Appoggia facile facile Sul primo palo Sul primo palo Per il gol del 1-0 18 sul cronometro Arriverà Il 2-0 Sempre con lui Sempre in velocità Davvero una scheggia E chiude definitivamente i conti Guarda dal ventesimo minuto Impone il 2-0 Con la doppietta Poi qui al sessantesimo Pericoloso Con questa Occasione Sul primo palo Si allunga il portiere E nega il gol Poi ancora lui Qui Un po' più Defilato Sicuramente Posizione più difficile Per andarsi in aria Ancora murata al portiere 8,9 La mia valutazione Raga Due gol In questi Ultimi 90 minuti Io vi ringrazio Raga L'episodio termina qui Ci vediamo nel prossimo video Lasciate un like Commentate e iscrivetevi al canale Passate anche la pagina Facebook Come vedete Questa è la classifica Siamo quarti Davvero una grandissima stagione Da parte del nostro Avellino Ma anche le altre partite Che vedremo nel prossimo episodio Compreso di Credo Nuovo trasferimento Bella Bomber Ciao bio Ciao Grazie a tutti Ciao 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 Vorce Grazie.